Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Mi raccomando, oggi ascoltate soltanto l'originalità della figura che vi racconterò, ma mi raccomando non imitate le gesta, perché parliamo di una assassina, di una avvelenatrice, di una serial killer a tutti gli effetti. Ecco, mi rendo conto di mostrare una sorta di, sempre di più, di sindrome di Dario Argento. Non so se conoscete il regista Dario Argento e se lo conoscete vi sarete accorti del fatto che, diciamo, il suo rapporto con le donne è sempre nei film abbastanza attormentato. Spesso le assassine sono donne e comunque le figure femminili alternano l'aspetto del demoniaco essere umano alla strega vera e propria. Ecco, mi rendo conto che spesso, se vi presento figure maschili molto illuminanti, sagge, sovente istruttive dal punto di vista anche proprio istituzionale, figure di riferimento canoniche. Ecco, invece quando tratto di donne spesso privilegio piratesse, rivoluzionarie, ribelli, spesso anche assassine, abbiamo già avuto occasione di parlarne, anche a volte ingannatrici, tuffatrici, cialtrone e anche oggi appunto una serial killer. Bene, non so se questo fa di me un misogino argentiano, se possiamo definirmi così, giuro che non c'è nessun tipo di intenzione di dolo, ma semplicemente mi piacciono queste figure, insomma sono figure che peraltro poco vengono poste all'attenzione dei più, anche se come il personaggio di oggi hanno sicuramente una notorietà quasi proverbiale e poi forse sì, come ho sempre detto, mi piacciono le figure femminili carismatiche, fortemente determinate, indipendenti e forse questo a causa anche della, come dire, della condizione storica della figura femminile, ha fatto sì che le due cose, cioè il carisma, il carattere, l'energia, l'intensità e anche il fascino del carisma e del carattere indipendente coincidessero anche con figure necessariamente eterodossa, ecco diciamo così. Sicuramente eterodossa è appunto la protagonista di oggi che appunto è una serial killer nata a Palermo e morta a Roma il 5 luglio 1659, 1659 e è nota per la sua acqua, l'acqua Tofana e lei si chiama Giulia Tofana, è una serial killer sui generis perché diciamo lei si limitava a preparare l'acqua avvelenata che permetteva alle donne di far fuori i mariti. Ecco, io direi che non c'è migliore soluzione che questa spesso rispetto ai mariti petulanti. Io conosco bene, non perché io lo sia per fortuna, ma credo almeno di non essere un marito particolarmente petulante, ma ho conosciuto tanti parenti petulanti, soprattutto uomini, e so quanto un uomo può essere pesante, magari anche una donna può essere pesante, anche in questo caso forse sono stato fortunato perché non ho una moglie particolarmente petulante né oppressiva, ma penso che tra le due figure, quella dell'uomo anche per mia esperienza, forse, forse qui sono appunto traviato dalla mia esperienza personale, l'uomo è più pesante. Ecco, quando un uomo è pesante veramente non si regge, secondo me è un uomo pesante non si regge, perché una donna pesante e petulante però si riesce a trovare anche una strategia, si riesce a trovare un espediente, una modalità per cui possa placare la sua petulanza, ma un uomo pesante e petulante, un rompimaroni, come diciamo noi a Bologna, un rompimaroni cronico non lo plachi, non c'è modo per placarlo se non appunto attraverso il veleno. Ecco, per quello vi dicevo mi raccomando stiamo parlando di metafore, stiamo parlando di motivazioni riguardanti strategie per trovare soluzioni alla petulanza rispetto alle relazioni e quindi anche rispetto alle negatività dei rapporti. Naturalmente non sto invitando tutte le donne all'ascolto ad avvelenare i propri mariti se sono petulanti, ma anzi cercate ovviamente di tollerarli. E comunque c'è sempre il divorzio, ecco. Ad ogni modo ecco la storia di Giulia Tofana, estremamente significativa dal punto di vista della motivazione quotidiana, perché ci mostra come sentirete subito una certa determinazione e una grande capacità di cogliere le opportunità, anche quelle minime. Pochi mesi prima di morire, Wolfgang Amadeus Mozart confidò a sua moglie il sospetto di essere stato avvelenato con l'acqua tofana. L'episodio è interessante perché mostra come questo veleno fosse ancora in auge, a distanza di quasi due secoli da quando aveva visto la luce, a opera di una donna singolare, la nostra Giulia Tofana, meretrice e fattucchiera dei bassifondi palermitani. Orfana e poverissima, Giulia aveva dalla sua una bellezza prorompente e una fervida inventiva. Adusa a commerci carnali anche con esponenti del clero, fu grazie all'amicizia stretta con un frate, speziale, che riuscì a rifornirsi delle polveri necessarie per mettere a punto la sua miscela. Sebbene analfabeta e priva di ogni educazione, la giovane vantava un'intelligenza pratica e una spiccata propensione per gli esperimenti, qualità che le permisero, dopo qualche tentativo, di ottenere la formula del veleno perfetto, quello che uccideva lentamente, senza dare nell'occhio, lasciando roseo il colorito del morto. Nessun odore, nessun sapore, in quel miscuglio di arsenico e antimonio, ma una sola avvertenza. La somministrazione alla vittima, prescelta, doveva avvenire un po' per giorno, attraverso un numero preciso di gocce versate nel vino o nella zuppa. In un mondo pieno di rancori e di conflitti, la bella Giulia non faticò a piazzare la sua merce. Infatti, non era per suo diretto beneficio che l'aveva concepita, bensì per farne commercio. I clienti aumentarono in fretta, di pari passo con le sue rendite, tanto da consentirle di lasciare il malfamato quartiere del Papireto assieme a Girolama, sua sorella di latte. Tutto sembrava filare liscio quando, a causa di un cliente maldestro, la giovane rischiò di finire sotto la lente del Tribunale dell'Inquisizione. Per sottrarsi alle indagini e alle relative conseguenze, finì per accettare la proposta di un altro frate, tale Girolamo, che la portò con sé a Roma, dove l'aspettava una brillante carriera ecclesiastica. Approdarono insieme nell'urbe di Papa Urbano VIII e Giulia prese alloggio in un bell'appartamento alla Lungara, nel rione Trastevere, a spese dell'amante, distanza nel convento di San Lorenzo. Pare che poco tempo dopo la siciliana avesse già imparato a scrivere, vestendo come una dama ad alto rango, ormai dimentica degli anni bui di Palermo. Finché un amica più cara delle altre non si andò a lamentare proprio con lei, proprio con lei, dei maltrattamenti subiti in casa dal marito, una piaga che all'epoca accomunava la maggior parte delle spose. Costrette al matrimonio in età giovanissima, subivano abusi e angherie di ogni genere dai coniugi indesiderati. Fu così che Giulia, forte del suo ascendente sull'amante, lo spinse a procurarle la materia prima, non curante di trovarsi nella città di San Pietro, sotto il naso dell'inquisizione. Spregiudicato quanto lei, Girolamo non oppose resistenze e si rifornì dell'arsenico tramite uno zio compiacente, frate e speziale alla Minerva. rispolverata la vecchia formula, Giulia tornò al lavoro vendendo, come sembra, la sua preziosa merce quasi esclusivamente alle donne. Questi traffici diventarono sempre più intensi. Dopo qualche tempo, però, una delle clienti, erano passati alcuni anni, la contessa di Ceri, ansiosa di liberarsi del consorte e contrariamente alle istruzioni ricevute, cosa fece? Vuotò l'intera boccetta del veleno nella minestra del marito. Ecco, come dicevamo quando uno proprio aveva rotto i maroni, non poteva fare altro che questo la povera contessa. Gli vuota l'intera boccetta di veleno nella minestra, provocandone la morte immediata e ovviamente scatenando i sospetti dei parenti. L'indagine di polizia condusse presto a Giulia. Arrestata, subì un processo al pari delle sue 600 clienti. Un solo uomo fu coinvolto nel processo. Condannate alla pena capitale, le spose fedifraghe furono murate vive nel palazzo dell'Inquisizione, a porta cavalleggeri. Di Giulia Tofana, sottoposta a tortura ma poi rilasciata, probabilmente grazie ai buoni uffici dell'amante, si persero le tracce. La sua difesa in tribunale? Quei miscugli non erano altro che preparati efficaci per la cura della pelle. Non era affar suo se le clienti ne facevano un uso differente. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.